Allora, un concetto importante per le memorie è l'indirizzamento bidimensionale. Dunque, l'indirizzamento bidimensionale risolve un problema che si ha quando c'è un numero di bit elevato nella memoria, cioè un numero di incroci tra wordline e bitline elevato. Per quale motivo? Avete visto che quando guardiamo come è fatto l'encoder, l'encoder ha un numero di wordline che è 2 alla n e un numero di bitline che è m. Se andiamo a un numero di bit di indirizzo non piccolissimo, per esempio se voglio avere 1000 wordline ho bisogno di 10 bit di indirizzo. 10 bit di indirizzo mi fa 2 alla 10 wordline, quindi circa 1000 wordline e magari voglio avere 8 bit d'uscita. Quindi mi viene una matrice per l'encoder che ha 1000 wordline e 8 bitline. Quindi con un fattore d'aspetto molto scomodo, molto lunga e molto stretta. Dal punto di vista dell'occupazione di spazio su chip è particolarmente scomoda. Non solo quello, ma poi si vede bene, se si fa una verifica del numero di transistori che ci vogliono, che il decoder viene molto grande. Ora poi un esercizio lo facciamo, cioè se voglio tante wordline mi viene un decoder complicato con parecchi transistori. Allora quello che si fa sempre, direi a questo punto, è spezzare il decoder in due parti, usare un decoder di riga e un decoder di colonna in modo da non avere un unico decoder grande, ma ridurre la taglia del decoder e avere una matrice un pochino più quadrata. Vediamo con un esempio, questa è una classica cosa che si capisce bene con un esempio e poi si può generalizzare. Allora, prendiamo una memoria da 1 kilobit. Immaginiamo che siano 256 word, ciascuna da 4 bit. In questo modo ottengo il kilobit, ovviamente se facessi l'encoder come ho descritto finora avrei bisogno di un encoder con 256 word line e 4 bit line. Di quanti bit di indirizzo ho bisogno? Avrei bisogno di 8 bit di indirizzo. Con 8 bit di indirizzo posso indirizzare 256 word e poi 4 bit di uscita. Allora, con l'indirizzamento bidimensionale si fa diversamente. Cioè, per esempio, questi 1024 bit, sono 1024 incroci e invece di metterli in un encoder 256x4 si mettono in un encoder 32x32. Quindi un encoder con 32 bit line e 32 word line. Quindi quadrato, d'accordo? Come si fa quindi a fare l'indirizzamento? Io qui ho 32 word line. Per selezionare 32 word line ho bisogno di 5 bit. Quindi prendo 5 bit di ingresso, per esempio i 5 bit meno significativi, per selezionare la word line. Quindi qui ci metto A0, A1, A2, A3 e A4. Quindi qui metto solo un decoder da 5 a 32. In uscita ho 32 bit line e ne devo selezionare soltanto 4 perché ho soltanto 4 bit di uscita. Quindi devo selezionarne una ogni 8 e per selezionarne una ogni 8 uso una batteria di 4 multiplexer da 8 a 1. Quindi questi sono 4 multiplexer da 8 a 1 e questi 4 multiplexer hanno bisogno di 3 bit di controllo che possono essere gli altri 3 bit di indirizzo. E quindi in uscita mi trovo Y3, Y2, Y1 e Y0. Quindi vedete in pratica com'è che ho risolto la cosa. ho trasformato degli 8 bit di indirizzo, 5 in bit per selezionare la word line e 3 bit per selezionare la bit line. Quindi è come se questo decoder da 5 a 32 mi facesse da decoder di riga. questo mi facesse da decoder di riga. E invece questo blocco di 4 multiplexer da 8 a 1 mi facesse da decoder di colonna. Mi seleziona 4 colonne su 32. Dunque ripeto il vantaggio. Il vantaggio. Ho un vantaggio grosso. in termini di fattori d'aspetto, di rapporto d'aspetto, fattori di forma per meglio dire. Cioè io ho un circuito più quadrato e quindi riesco a posizionare meglio su un circuito integrato. L'encoder come area è la stessa di prima. È soltanto la forma un po' migliore ma poi il numero di incroci è sempre 1024 perché ogni incrocio è un bit quindi quello non lo tocco. D'accordo? Però ecco quello che si vede è che si migliora molto l'occupazione di spazio del decoder. Ora facciamo una prova. Tanto abbiamo imparato a fare conti del numero di bit che ci vogliono. Facciamo questo confronto tra l'indirizzamento lineare, che è quello che avevamo prima, cioè monodimensionale, diciamo lineare. Nell'indirizzamento lineare avevo bisogno di un decoder da 8 a 256. Va bene? Quanto mi costa un decoder da 8 a 256? Facciamo il conto. Abbiamo visto come si fa a decoder. Guardate, riprendiamolo un attimo. Decoder era questo. Abbiamo fatto il conto qua. Il numero di transistori è questo. 2, prendiamo nota, 2 per L più N, 8 più 256, quindi fa 264 per 2, fa 528. Ok? Qui ho 264, 528, sì. 528 è il primo termine. Solo per gli inverti, il 528 è il transistor. Più, qui che cosa ho? Ho N più 1, che sono quindi 8 più 1, 9, per 2, 18, per L, L sono 256. Quindi questo è il numero grosso. 256 per 18. Aspettate, a questo punto mi serve la calcolatrice perché faccio brutta figura. 256 per, ho detto 18, 4608, solo quello, più, avevo detto, 526, 28, 528, sono 5136 transistori. D'accordo? Solo per i decoder. Notate bene, il decoder mi costa 500, 5136 transistori e l'encoder ha più 1000. Cioè la parte che sembra più importante, quella che contiene informazione, mi richiede un numero di transistori molto inferiore, molto inferiore a quella che mi richiede invece il resto. Segniamoci questo numero. Oggi è una giornata. Aspettate, vado in basso. 5136, ho perso il filo. 5000, detto bene, 136 transistori. Ok, vediamo la soluzione 2, indirizzamento bidimensionale. Quindi le cose si semplificano molto perché ho un decoder da 5 a 32 più 4 mux da 8 a 1 Va bene? Allora, i 5, torniamo un attimo indietro facciamo il conto sui 5 e questo qua, allora riprendiamo questo abbiamo gli inverter me ne servono 2 per 37 quindi 74 inverter e poi ho bisogno di L uguale a 32 per 2 per 6 quindi 32 per 12 più 32 per 12 fa 458 quindi decoder è più di 10 volte più piccolo 432 poi devo sommare i multiplexer ma i multiplexer sono facili perché per esempio se lo faccio invece che così lo faccio con lo faccio non con porte logiche ma lo faccio con le con i pass gate vedete ho bisogno di questo quindi 2 più 4 più 8 fa 14 per 2 28 28 28 transistori per un multiplexer quindi devo fare più 28 per 4 totale totale 490 quindi l'indirizzamento lo faccio in tutto con 490 transistori quindi il vantaggio non ce l'ho solo sulla forma ce l'ho sulla semplicità dell'indirizzamento ho abbattuto un fattore 10 ho questo problema è generale cioè per le rom cioè per le memorie in generale perché in tutti i casi per le memorie è sempre un un indirizzamento e poi una matrice dove stanno le celle di memoria per curiosità adesso per le memorie come dire moderne ad alta densità in cui non ho un kilobit ma posso avere tranquillamente 16 gigabit di dati chiaramente le matrici sono molto più grandi ovviamente si fa l'indirizzamento bidimensionale perché chiaramente se è così conveniente per una memoria così semplice vi immaginate com'è conveniente per una memoria molto più grande ma la tendenza più moderna è di fare l'indirizzamento tridimensionale perché ancora di più semplifica la cosa l'indirizzamento tridimensionale vuol dire che non c'è solo quella matrice ma c'è anche un altro decoder in altezza e quindi le celle di memoria non stanno su un piano ma stanno su immaginate su un cubo c'è un reticolo sono tanti piani sovrapposti e si seleziona anche il piano su cui sta il bit di memoria l'indirizzamento tridimensionale a maggior ragione semplifica ancora il costo dell'indirizzamento e quando andiamo su un gigabit anche su un gigabit di memoria l'indirizzamento bidimensionale pesa per una percentuale non trascurabile va bene questo è un concetto ed è importante ripeto per le ROM è un caso in cui l'abbiamo introdotto ma è importante in generale anche per tutti gli altri tipi di memorie poi l'altra cosa che volevo aggiungere invece l'altro concetto è spiegarvi un po' che cosa è successo dopo le ROM perché poi tecnologia chiaramente si è evoluta le ROM sono le prime memorie che sono utilizzate nel tempo si è passati dalle ROM alle PROM questa P dentro PROM sta per programmable ROM programmabili cosa vuol dire sono one time programmable cioè programmabili soltanto una volta invece di essere scritte in fabbrica venivano scritte da chi le metteva nel sistema quindi in fabbrica uscivano tutte uguali senza che ci fosse scritto niente e quando uno la comprava e poi la inseriva nel proprio sistema la programmava in quel caso con un apparecchio apposta che si chiama programmatore di ROM e che consentiva di scrivere una volta per tutte il contenuto della memoria questa è una cosa che consentiva una riduzione di costo notevole perché di fatto in fabbrica potevano uscire tutte uguali se una piccola società aveva bisogno di pochi ROM per un uso molto particolare prima avrebbe dovuto come dire spendere parecchio per farsi fare un run apposta un run di silicio un ciclo di fabbrica apposta per le memorie con le ROM programmabili può comprare quelle standard e programmarsele in modo adatto al sistema che stava realizzando la programmazione era molto molto semplice in pratica veniva fatta montando diffusibili interni su chip in pratica faccio un esempio nel caso degli encoder con con transistore bipolare cosa si faceva praticamente si faceva questa operazione si usavano dei bipolari multi emettitore vi faccio esempio a tre emettitori perché non ho tanto spazio e si collegavano tutti d'accordo per cui il collegamento queste sono le bit line e queste qui sono le word line vi ricordate lo schema che abbiamo fatto insieme allora il collegamento c'era fatto in tutti i casi però il collegamento era fatto attraverso un fusibile c'è una linea di un filo di collegamento una pista di metallo fatta su chip molto molto sottile che appunto come dice la parola fusibile si poteva rompere se si surriscaldava e come funzionava all'inizio venivano vendute così poi si mettevano dentro il programmatore nel programmatore si indirizza se per esempio voglio che là ci sia l'uno lascio il fusibile così com'è se a un particolare incrocio voglio uno zero che cosa faccio alzo la word line metto una tensione negativa alla bit line in modo che passi un sacco di corrente attraverso quel nodo questa corrente scalda il fusibile il fusibile si surriscalda e si rompe e quindi il collegamento si interrompe d'accordo in quel modo io lì ho scritto zero e chiaramente è scritto per sempre che una volta il fusibile si è rotto non si non si non si cambia più quindi in pratica cosa succedeva dentro il programmatore che in successione si indirizzavano tutti i bit in cui si voleva scriverlo zero e si applicavano una tensione parecchio più forte di quella che veniva utilizzata normalmente che serviva per rompere i fusibili in tutti i punti con piccolo programma automatizzato la cosa si faceva una volta per tutti quindi si spaccavano tutti i fusibili dove si voleva da zero a quel punto la rom era scritta una volta per tutte ma non veniva scritta in fabbrica veniva scritta nel punto in cui veniva usata da chi doveva produrre e quindi diventava conveniente anche per piccole serie chiaramente per grandi serie di produzione era più pratica la rom per piccole serie la rom diventava effettivamente molto utile dopo la prom a un certo punto è entrata in commercio qui siamo anni 80 la eprom la eprom anche questa è una piccola rivoluzione sono tutti prodotti commerciali molto forti che hanno rappresentato un quote di mercato importanti la eprom sta per erasable prom cioè memoria programmabile e cancellabile come si facevano a cancellare queste memorie e queste memorie si cancellavano mettendole in un fornetto in pratica lì il meccanismo di funzionamento è un pochino diverso sono delle memorie fatte così con due dove le erasable prom si prestano per l'encoder fatta a mosfet e venivano fatti con un mosfet speciale con due gate di cui un gate è il cosiddetto gate di controllo vedete questo è il source questo è il drain un gate è il cosiddetto gate di controllo quindi viene usato normalmente e un altro gate è un gate cosiddetto flottante che è l'elemento che memorizza questo è il gate flottante che è come dire immerso dentro il silicio e isolato da tutto il resto allora com'è che si scrivevano queste memorie in pratica si scrivevano così se si si mettevano dentro un programmatore si applicava una tensione molto alta sul gate e più alta del solito sul drain in modo da far passare una corrente molto forte e fare in modo che gli elettroni che venivano dal source e andavano verso il drain a seguito di urti venissero attirati verso il gate e intrappolati dentro il gate flottante quindi si programmavano con alta VDS alta VGS quando gli elettroni venivano intrappolati nel gate flottante che cosa facevano? respingevano gli elettroni che stavano nel canale e riducevano la concentrazione di elettroni nel canale quindi in pratica praticamente aumentavano la tensione di soglia ci voleva una tensione più alta sul gate flottante per riuscire ad avere di nuovo il canale d'accordo? in pratica noi avevamo una situazione del genere che se scrivo la se scrivo la se faccio il grafico della ID in funzione di VGS ottenevo una cosa del genere avevo una tensione di soglia fatta così quando scrivevo 0 quando volevo scrivere 1 riempivo il gate flottante di elettroni la caratteristica di trasferimento si spostava su una tensione di soglia molto più alta perché ci voleva una tensione di gate più alta per creare il canale no? e quindi la tensione di soglia cambiava quindi avevo un mosfet che dopo la programmazione aveva una tensione di soglia più alta a questo punto qual era il trucco? che quando andavo a indirizzare la word line e mettevo per esempio questa tensione sul gate la tensione della word line se c'era se non era programmato il mosfet conduceva e quindi portava il nodo a massa e io leggevo 0 in uscita se invece il mosfet era programmato la tensione era più bassa della tensione di soglia quindi il mosfet non conduceva e quindi non si chiudeva come se non ci fosse quindi la tensione andava a VDD ok? perché c'era la resistenza di pull up d'accordo? in questo era il gioco in questo modo era si scriveva quindi veniva scritta la memoria intrappolando gli elettroni nel gate flottante per mandarli via gli elettroni nel gate flottante si infilava la memoria dentro un fornetto a ultravioletti dentro un piccolo forno tipo un forno a microonde non immaginate come per avere un'idea che però c'erano emissioni di ultravioletti come una più o meno come una lampada insomma non erano poi più via ma insomma ultravioletti un pochino più alti erano e a quel punto gli ultravioletti facevano davano abbastanza energia agli elettroni per uscire dai gate flottanti e liberarle e in questo modo si cancellava l'informazione quindi tutte le volte che si voleva modificare bisognava togliere il chip di ROM dalla scheda inserirlo dentro il fornetto mandare illuminare per 5 minuti così bastava per levare tutti gli elettroni e cancellare a quel punto si poteva riprogrammare di nuovo ok quindi è un'operazione scomoda però in qualche modo fattibile questi siamo più o meno anni 80 ok 90 anche gli erasable prom negli anni 90 si è affermata un altro tipo di memoria ancora si chiama eeprom dove la seconda e sta per electrically electrically erasable diciamo electrically eeprom va bene la in più sta per electrically cosa vuol dire stavolta questa è una eeprom cancellabile ma semplicemente elettricamente senza bisogno di staccarla e metterla in un forno un esempio particolare delle memorie e eeprom sono le flash che probabilmente tutti conoscete perché sono quei tipi di memoria che stanno in un telefono in un player mp3 in un beh chiaramente ora anche negli hard disk ssd sono flash ricordo quella è l'evoluzione successiva ed è effettivamente della fine degli anni 90 con piccoli volumi e poi adesso con le macchine digitali essenzialmente esplosa la richiesta di flash che cosa sono sono praticamente dal punto di vista del principio molto simili alle eeprom a quelle erasable soltanto che con la riduzione delle dimensioni è diventato possibile cancellare la memoria invece che mettendola in un fornetto semplicemente applicando una tensione forte e negativa sul gate una tensione forte e negativa sul gate di controllo spinge gli elettroni via e cancella la memoria è un po' più semplice ed è possibile perché gli isolanti si riescono a fare più sottili e la cancellazione quindi un pochino più facile ed è sono attualmente una cosa che come dire le flash è un prodotto che occupa almeno la metà di tutto il mercato delle memorie chiaramente molto rilevante se tutti voi pensate a quante memorie flash più o meno avete intorno il numero è elevato tutte le macchine lettori mp3 ormai gli harddisk ssd per chi ha qualche calcolatore un pochino più di fascia alta gli harddisk sono realizzati con flash i telefoni chiaramente in un telefono ci sono almeno 3-4 tipi di flash perché ci sono di diverse velocità per esempio il codice va nelle flash più veloci i dati vanno nel flash più lente di solito c'è una scheda sd che è un'altra scheda di flash per le cose che si usano ancora più lentamente e così via chiaramente a quel punto sono sempre memorie rom non sono di sola lettura perché poi diventano abbastanza diciamo diventano scrivibili molte volte tipicamente ormai per le memorie flash si dà un tempo di conservazione minima dell'informazione di 10 anni commercialmente e un numero di cicli di riscrittura di 10 alla 7 quindi sono garantiti per 10 milioni di riscrittura in 10 anni cioè 10 anni di conservazione dell'informazione quindi diciamo non sono formalmente più ridonli ovviamente però la tradizione è quella è il nome che ancora porta indietro e completiamo qui di riscaldare